Grazie Presidente, non sarà un intervento lungo perché ha già descritto l'assessore prima di me questa proposta che ovviamente abbiamo discusso e trattato in commissione urbanistica. Ci tengo infatti a precisare che qui stiamo approvando una delibera di variante del ponte dei congressi e quindi esclusivamente perché nel PRG approvato nel 2008 la collocazione, la posizione, la conformazione di questo ponte era differente. Quindi con questa variante noi adegueremo il piano regolatore al nuovo progetto definitivo che è in corso d'opera e che porterà quindi con questo nostro indirizzo al Sindaco sulla conformità urbanistica dell'opera di rilevanza strategica e un'opera come tutti sanno finanziata dallo Stato daremo la possibilità di proseguire in questo iter e quindi di passare alla realizzazione e alla definizione del progetto esecutivo per poi andare in appalto e vedere finalmente realizzata questa opera importante per la viabilità di quel quadrante. Quindi ovviamente la maggioranza esprimerà voto positivo alla delibera. Grazie.